Ciao a tutte, oggi andremo a lavorare insieme un simpatico punto, cioè la treccia. È un punto di grande effetto che può essere utilizzato per tantissime cose, sia per maglie, scaldacolli, cappelli, ma anche per accessori come bordi per borse oppure stessi, che ne so, un portatelefonino. Ci sono tanti modi per poter utilizzare questo tipo di punto. Una mia carissima amica mi ha chiesto di spiegare un po' meglio come viene fatta la treccia. Allora, io oggi per lavorarla insieme avvierò sui miei ferri circolari numero 8, utilizzerò i ferri circolari perché sono più comodi da mantenere con la videocamera, semplicemente 20 punti, ok? Quindi abbiamo sui nostri ferri i nostri famosi 20 punti. 20 punti perché sono 4, li tengo per il bordo di destra, 4 li tengo per il bordo di sinistra e al centro voglio far nascere la mia la mia treccia. Quindi con i miei 12 punti centrali lavorerò poi dopo la treccia, ok? Sono 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10, allora continuate così fino al raggiungimento dei 20 punti sul nostro ferro. Allora, eccoci qua, caricati i 20 punti, giro la mia lavorazione e inizio a lavorare. Punta dritto, 1, 2, 3, e continuo così per tutto il ferro, fino poi a raggiungere la parte finale per poi girare il nostro lavoro. Ok? Quindi continuiamo ora così fino alla fine della lavorazione. Eccomi qua. Allora, ho girato il lavoro, ora sono sul rovescio. Cosa farò? Lavorerò i primi 4 punti sempre a dritto, così creando il mio motivo a legaccio. Questo mi permetterà di non avere il bordino che si arriccia, perché se lo lavoriamo con la maglia rasata, almeno il primo punto dovrà essere lavorato in modo diverso, in modo che non si arriccia la lavorazione. Ok? Poi, gli altri 12, il lavoro al rovescio, perché sono sul rovescio del lavoro. Quindi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora di nuovo gli ultimi 4 punti di lavoro, appunto, legaccio, cioè a dritto. 1, 2, 3 e 4. Giro il lavoro e ora sono sul dritto della mia lavorazione. Ancora qui lavoro a dritto, quindi 1, 2, 3 e 4. Vedete? Continuo a dritto, perché sono sulla parte centrale del lavoro. Oggi, ora siamo al terzo ferro, che stiamo lavorando. Quindi continuo così fino a lavorare i miei 12 punti, più gli altri 4 che compongono il legaccio. Al rovescio ripeterò lo stesso tipo di giro. Ci vediamo appena avremo raggiunto anche l'altro giro. Allora, io ho lavorato già 10 ferri, come abbiamo fatto insieme, cioè un ferro a dritto e un ferro a rovescio, per quanto riguarda la parte centrale, e i 4 punti laterali, invece, con il punto nostro a legaccio, cioè tutti i ferri a dritto. Lavorati questi 10, ora dovrò iniziare il mio intreccio, perché ho deciso che questa treccia sarà fatta ogni 10 ferri, ok? Quindi è una ripetizione, poi dopo. Sono due, tre, i miei 4 punti di lavoro normali, come abbiamo fatto prima. Ora cosa andrò a fare? Mi aiuterò con un uncinetto, oppure, se avete un altro ferro, tranquillamente potete utilizzare quello, per far sì che le prime maglie passino sul ferro ausiliario e le altre vengono lavorate per prima, così si crea l'incrocio, ok? Quindi, dividiamoci le maglie, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 le centrali, quindi saranno 2, 4, 6, queste 6 qua saranno lavorate per prima, le altre 6 saranno in sospeso. Quindi, ora faccio così, semplicemente faccio passare l'asola sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Se avete tranquillamente un ferro ausiliario, fate lo stesso tipo di lavoro. Allora, ora queste 6, io che faccio? Passo la punta dell'altro mio ferro in avanti, tengo con l'altra mano, vedete, io ce l'ho qua i 6 punti, non lasciateli scappare, tengo con un dito gli altri punti e l'altro dito mantiene il punto che bisogna lavorare ora. Punto il mio ferro di destra, questo qua, lo vedete, nella prima maglia. Vedete? Ora carico il filo, perché stiamo lavorando al dritto. 1, e così ora io andrò a lavorare i miei primi 6 punti. Quindi ho invertito in pratica, i punti di dietro saranno lavorati per prima. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Ora, lavorati questi 6, cosa dovrò fare? Dovrò semplicemente ora lavorare i 6 che ho lasciato in sospeso sul mio uncinetto, questi qua. Ok? Quindi ora prendo il primo punto, avvicino un po' la lavorazione, primo punto e lavoro, maglia a dritto, vedete? E lo faccio cadere. Poi, secondo punto, terzo punto, quarto punto, e continuo così per tutti i 6 miei punti che passano poi man mano ognuno sull'uncinetto, sul ferro di destra. Tolgo il mio ferro ausiliario, un uncinetto e riprendo la mia lavorazione da dove mi ero fermata, cioè dai miei 4 punti legaccio quindi 1, 2, 3, e 4 ora la lavorazione al momento si presenta così vedete, già ha fatto un piccolo incrocio ora io giro la lavorazione ho il rovescio del lavoro e lavoro come prima ripartiamo di nuovo con la nostra sequenza quindi dritto perché i primi 4 rispecchiano i miei punti a legaccio quindi 2, 3, e 4 ora i miei 12 saranno rovescio come abbiamo fatto prima 1, 1, 2, e poi gli ultimi 4 saranno di nuovo a legaccio dopodiché giro il ferro conto di nuovo altri 10 ferri a dritto e riproduco di nuovo il mio incrocio così avrò l'effetto treccia ok? quindi lavoriamo ora insieme questo ultimo giro e poi tranquillamente possiamo proseguire per altri 10 giri e vi farò vedere di nuovo come faccio l'incrocio così da fissare meglio e bene il momento 2, 4 dobbiamo essere lavorati appunto legaccio ok? 1 2 3 e 4 ecco qua non so se già si inizia un po' a vedere ora continuiamo quindi da questo momento io riconto di nuovo i 10 giri quindi ora farò 4 legaccio 10 dritto 12 dritto e i 4 legaccio di nuovo laterali e continuo così per 10 giri e poi ci rivedremo per fare insieme magari l'incrocio ok? ci vediamo tra poco allora ho appena ottimato gli altri 10 ferri cioè sono sul decimo ferro e ora inizierò il mio incrocio di nuovo quindi i 4 abbiamo detto li lavoriamo appunto legaccio poi mi aiuto come abbiamo detto prima con il mio uncinettino e passo qui i miei 6 punti come abbiamo fatto prima 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ok? vado avanti blocco col dito di dietro la lavorazione per non far scappare il punto e vado a lavorare il mio primo punto lasciato sul ferro di sinistra ok? lavoro i miei 6 punti a dritto perché l'incrocio lo facciamo sul dritto del lavoro 5 e questo dovrebbe essere l'ultimo 6 vedete che sono rimasti 4 punti legaccio ritorno dove ho il mio uncinetto quindi questi punti qua e li vado a lavorare a dritto attenzione che di qua non vi scappi nulla quindi 1 2 3 io lavoro con i ferri circolari vi ho detto semplicemente per una questione di comodità mentre registro voi avete sicuramente il ferro che ha la punta più lunga quindi non avete il problema che possono scappare i punti dal ferro ecco qua lavorati anche gli altri 6 punti del mio incrocio ora vado semplicemente a lavorare di nuovo qui il mio punto legaccio quindi 1 2 3 e 4 e ora riprosego con la mia lavorazione cioè faccio di nuovo il mio ferro a rovescio sul ferro a rovescio io andrò a lavorare i punti a rovescio sul ferro a dritto andrò a lavorare di nuovo i punti come abbiamo fatto prima ripeterò quindi la sequenza per altre 10 volte ok? giusto per farvi vedere la treccia come nasce poi da questo semplice progetto voi potete ideare tantissime cose tipo possono nascere sapete quella parte superiore che escono dagli stivali tipo scaldamuscoli sarebbe carino farlo uscire così con una treccina o tanti piccoli gadget molto carini che vengono utilizzati tranquillamente quindi continuiamo ora con questa lavorazione appunto seguendo il nostro schema legaccio, dritto, legaccio ci vediamo dopo per farvi farò vedere un altro po' di treccia ecco come si presenta l'intreccio dopo aver lavorato un po' di ferri vedete? c'è l'incrocio e si vede bene la parte dell'intreccio della nostra treccina questa è una splendida lavorazione molto semplice, facile, proprio una classica spero di aver accontentato le amiche che mi hanno chiesto di fare un tutorial giusto su questo punto magari prossimamente ne seguiranno degli altri ecco per chi è alle prime anni o per chi è semplice come me che ama fare dei lavori facili e alla portata di tutti creeremo degli altri video dove spiegheremo magari meglio il punto legaccio dove spiegheremo man mano un po' di punti base da dove puoi poter creare tante bellissime idee tanti bellissimi gadget anche utilizzando pochissimi punti ma tanta tanta fantasia spero come sempre che anche questo tutorial vi sia gradito e vi sia piaciuto se avete domande non esitate a chiedere siamo qui pronte per rispondervi e vi aspetto al prossimo progetto creativo a presto